Ritornano in vasca i giovani atleti della SSD Swim Fit per esibirsi nel saggio di fine anno di nuoto sincronizzato. L'evento che si è svolto domenica 29 maggio presso la piscina comunale di Ravenna è stata una grande emozione per dirigenti, ragazzi ma soprattutto per i genitori, che dagli spalti finalmente dopo le restrizioni a causa del covid hanno potuto assistere a tutte le esibizioni. Diverse sono state le coreografie degli atleti che hanno coinvolto tutto il pubblico, grazie alla loro energia e alla loro eleganza. L'ansia di tornare ad esibirsi per la prima volta dopo tanto tempo di fronte ad una platea così numerosa è stata soppita dall'entusiasmo e dalla carica di amici e genitori che facevano il tifo dall'alto della tribuna. Perché lo sport è anche questo, nutrirsi dell'affetto e del calore del pubblico che ti segue e si appassiona. Grazie a tutti.